Grazie a tutti. La giuria, questi premi, questo premio che va avanti da 25 anni per la dodicesima edizione che abbiamo presentato poco fa, è un modo per raccontare l'architettura. Le immagini dei vincitori dei 25, ma non solo, di tutti i progetti in mostra, restano e raccontano come dei casi di architettura possono diventare in qualche modo delle stelle filanti dove ci si può accudare per finalmente parlare di una nuova qualità dell'architettura. Il formato è molto difficile perché raccontare in un'ora e mezza un lavoro di due anni con una selezione di centinaia e centinaia di progetti e non tutti sono d'accordo perché è difficilissimo giudicare, è una cosa importantissima. Andrebbe portata nelle università, andrebbe raccontata su tutti i giornali, anche se la stampa è presente, nelle televisioni che ancora parlano di architettura e design non sono molte purtroppo, sicuramente nel web. Quindi sono felice di far parte, in minima parte, di questo progetto e di raccontarlo. Finisco dicendo che molti amici mi hanno scritto, vedendo le foto su Instagram, le dirette che sono state fatte dai siti, dai profili di D'Alo Minos e altri profili, e molti mi hanno scritto, ma che cos'è interessante? Bello, questo è un cortocircuito che deve funzionare sempre e sempre di più. Evviva D'Alo Minos!